Musica E salve a tutti da Pierre Dark Knight 91 Oggi ci troviamo in Rocket League Eravamo rimasti nella scorsa puntata con una vittoria e una sconfitta Oggi affronteremo i Rebels che sono al quinto posto E poi affronteremo i Mammoth che sono al terzo posto momentaneamente Se vinciamo queste due partite possiamo salire e vediamo se riusciamo a ritornare in gioco Andiamo Eccoci qua settimana 16 Pierre Dark Knight 91 contro i Rebels Vediamo cosa succede 5 minuti di gioco per far sì che I Pierre Dark Knight riescano a riprendere una buona posizione in classifica Attenzione subito, subito gli avversari Tex deve andare subito a chiudere Non fa niente È solo fortunato Palo incredibile Palo incredibile Attenzione Hollywood Spazza questo pallone Dude Attenzione Il rimpallo Il rimpallo Vieni, vieni a me Vieni a me No Vai Hollywood Salta Tex Alto, alto Nulla da fare Riva in avanti la squadra avversaria Vai Slider Slider Non fare ste minchionate Gol Segna Dude Dude 1-0 Per la squadra avversaria Come sempre Siamo in svantaggio In soli 40 secondi di tempo E vediamo se riusciamo a pareggiarla Pallone che scende La chiusura Oh Vai vai No, non ci credo Non ci credo Vabbè, ero troppo laterale qui Attenzione Slider Che cacchio fai? Dai, 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 dai Dai, butta fuori sto pallone Ah Dai, butta fuori Butta fuori Butta fuori Incredibile, ragazzi Non riusciamo A fare Oh Ho fatto una mezza cavolata Ecco Ah Ancora lui 2-0 Si può ancora vincere però Davvero Non riusciamo a fare Due vittorie consecutive Davvero Incredibile Dai, dai Ok Hollywood riesce A spazzare Il pallone Rimane Nella nostra Palla mia Dai 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 Ancora il pallone Mamma mia Non scende più sto pallone Deviato Non va a fare Vai Hollywood Fai qualcosa Fai qualcosa Hollywood Vai slider Vai slider La mette in mezzo slider Ah Buttata fuori Forza Tex No Ti fai fregare dal pallone Da rimbalza Hollywood Vai Madonna mia 3-0 Bandit Ha segnato Davvero Davvero Una cosa Impressionante Questa difficoltà Non pensavo Uno dei giochi più difficili Che ho giocato Nella massima difficoltà Anche perché I nostri amici di squadra Non servono un cacchio 4-0 Mamma mia Mamma mia Non ho parole Per fare 4 gol Devo fare 10 partite Io Attenzione Dai dai Questo segna da lì Guarda Non ci credo Non ci credo 5-0 Mamma mia Dai 2 minuti e 59 Dobbiamo fare 5 gol Sarà impossibile Ma ci proviamo Attenzione Il pallone che sbatte lì Oh vado sempre a vuoto Dai Dai Hollywood per favore Fai qualcosa Eh Questa volta Dai Dai Vai Hollywood Si è spostato Ma Sei a 0 Sei a 0 Che batosta Stiamo prendendo Mamma mia Io rimango dietro Dai 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 E perché la telecamera è così Laterale Palla al centro Non c'è nessuno Mette in mezzo slider Dai Dai Che cacchio ho fatto Che cacchio ho fatto Forza Hollywood Slider E poi ce la deviano Perché gli avversari nostri Riescono a difendere bene Noi no Mamma mia Oh Tex Vai Vai e si sposta Se ne va Dai slider Levati dalle palle Ok Ok Pierre Dark Knight Prova ad arrivare No 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 Oh Sei Sei Un gol l'abbiamo fatto Ma ci vorranno altri due minuti per farne un altro Se a 1 La partita non cambia Dai Tocco Primo tocco Molto bene Dai slider Forza slider Salta slider Muoviti slider Mamma mia Due minuti alla fine Il risultato Parla chiaro Eccolo qua 7 a 1 7 a 1 Dai Tocco Come sempre facciamo il primo tocco Ma non serve a niente Slider Che fa Che serve sta cosa Non lo so Attenzione Oh Pierre Dark Knight Rete Tira il nostro compagno di squadra Tocca a noi E segniamo Seconda rete nostra 2 a 7 Impossibile Vincerla sta partita Serve un miracolo Guardate Qualsiasi rimpallo Va in porta Guarda 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 Traversa Salviamo Qui Palla allontanata Dai E dai Dude Devo rompere le palle Attenzione Tex 3 a 7 Non ci credo Non ci credo Non ci credo Impossibile In un minuto e 28 Fare Altri gol Del pareggio Impossibile Arrivare al pareggio Impossibile Però Ci siamo svegliati Troppo tardi Qui nella deviazione Eh Non c'è nessuno in difesa Non c'è nessuno in difesa Dai Vai Tex Ti prego Fai qualcosa Dai Dai Tex Bene Tex Bene Tex Bene Tex Forza Forza Ah Ci ha spinto Uh 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 Vai qualcuno Non c'è mai nessuno Un minuto rimasto Impossibile Vai Hollywood Se ne va Madre Ok 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 Palla allontanata Leva Ti dà le palle Che non fai niente Oh mio dio Oh mio dio Uh Che salvataggio Parata epica 38 secondi alla fine Nulla da fare Ah Vuoto Incredibile Dai Hollywood Tiro Salvataggio Di dude Maledetto Dude 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 Tex Spazza Pallone Rimane lì Adesso ci fanno gol Già lo so Oppure non segnano più Perché tanto oramai Hanno vinto Ah Madda mia Dai slider Madda mia 10 secondi alla fine No è l'ultimo gol Almeno Che brutta partita Come sempre Spingiamo un po' tutti È finita Appena il pallone Tocca a terra È finita Ok Perdiamo Cerchiamo di vincere Almeno la seconda Ragazzi Ci proviamo Dai proviamoci Eccola qui Per il momento La classifica Siamo ultimi Però se vinciamo Possiamo riprendere I rovers E tutto il resto Mancano ancora Tantissime giornate Giocheremo Contro i mammut Che sono al terzo posto Sarà davvero Una partita Difficilissima Andiamo Eccoci qui Settimana 17 Pierre Dark Knight Contro i mammut Tutto pronto 3 2 1 Via E vediamo di perdere anche questa Dai Proviamoci a vincere Proviamo a vincere Dai Già parte benissimo Proprio bene Parte questa partita Attenzione Boomer Boomer Che man Che man Dai Ebb Sempre l'arima nel pallone Oh fino a quando non segnano il pallone Oh non esce da lì Non esce Oh Tex Fa una mezza Minchiata Mettiamo fuori Fuori un avversario E madonna Sempre qua Vedi Vedi Fino a quando non segnano No No Non è cosa Se non segnano Ok Riesce a spazzare 4 minuti e 20 Alla fine Il risultato è ancora 0 a 0 Adesso ho parlato Ci prendiamo Guarda 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 Bravo Tex Abbiamo chiuso Uh Entra Ti prego Entra Boomer Non ci arriva 1 a 0 Dai Facciamo sto 2 a 0 Adesso così Chiudiamo direttamente La partita Se così si può dire Perché in questo gioco Anche col 7 a 0 Si riapre Vai Slider Vai Slider Cammina Non fare finta Bravo Slider Qui Uh 2 a 0 4 minuti al termine Ce la possiamo fare Sì 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 Così ragazzi Forza Ok Dai salta Salta Ok Primo tocco È arrivato Vai Hollywood Dai Sti mammut Li battiamo oggi Dai Ok Ok Solta Solta Bene Bene Così Così Vai Hollywood Il tiro di Hollywood Deviato A porta vuota Vai Slider Mettile in mezzo Mettile in mezzo Bene Bene Tocco bruttissimo Quello nostro Attenzione Boomer Hollywood Tira Uh Mamma mia Dai 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 Vai Salta Hollywood Per favore Colpo Bellissimo Qui Dai Oh È rimasta lì È rimasta lì Dai Ah Salta No No Vedi Vedi Come Entra Vedi Come Oh Meno male Uh Hollywood Entra Entra Sì 3 a 0 Mamma mia Mamma mia 3 a 0 Per noi Che sta succedendo Miracolo Miracolo Grande tocco Grande primo tocco Forza 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 Vai Tex Il tiro La palla rimane lì Bravo Tex Bravo Tex Vai 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 Hollywood tira Deviata Vai Vai Ancora Tex Lì insieme a Slider Due Combattono Uh No Ho lasciato solo Lasciato solo Bravo Tex Bravo Oh no No Chiudi Ma E mori Apri la partita Ma la riapre 3 a 1 Vai 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 No Vuoto Incredibile Meno male Meno male No 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 Hollywood Bravo Bravo Vai Vai Mamma mia Hollywood Oggi In questa partita Hollywood Sta facendo Sfracelli 4 a 1 Per noi Per noi Che è chiusa Questa partita Speriamo Attenzione Bello Bello Questo tocco Bello Questo tocco Bravo Tex La mette in mezzo Non c'è nessuno Vai Hollywood Che stai facendo Una partita Eccezionale No Non fare cavolate Adesso Non fare cavolate Un tiro Ad esterno Mamma mia Che gol L'ha fatto Sticks Vediamo Cosa succede Vai 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 Un minuto E 50 Alla fine Ecco Un minuto E 50 Alla fine Vai Oh 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 No 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 Non lo Fare Non lo Fare Ok Chiusura Che Palle Dai Chiudi Mamma mia Ragazzi Sto pallone Non scende più Dai Oh 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 Ecco 4 a 3 4 a 3 In un minuto e 21 Possono pure vincere 5 a 4 Guardate Guardate Attenzione Non facciamo il primo tocco Boomer Butta fuori Sticks Dai Vai Vai Madonna Non abbiamo il nos Uh Riusciamo a toccare palla al centro Non vado a fare Dai No Per favore Non fare cavolate Bravo Tex Qui Salvato la partita Un minuto Un minuto Dai Tex Madonna Ecco 4 a 4 Adesso ci fa il 5 a 4 Negli ultimi 56 secondi Guardate Mamma mia sto gioco Forza Forza La tocchiamo Molto bene Ci spingono Dai E dai E dai No Non ci sto Non ci sto Cambiamo un po' la storia di sto gioco Non la perdiamo Non la per Ecco Ecco No Ho fatto una cazzata io Ho fatto una cazzata io Vai Hollywood Spazza 30 secondi alla fine 30 secondi alla fine Il pallone è lì Oh 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 No Vabbè Ma lo sono divorato io Vai slider 21 secondi alla fine Torniamo in difesa un po' Butta fuori sto pallone 12 secondi alla fine No Vai No 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 7 secondi alla fine Tex butta la fuori 5 4 3 2 1 Supplementari Supplementari Ecco Mamma mia Adesso chi segna vince Attenzione Iniziata Spaziamo molto bene qui Attenzione a che man Mamma mia No No slider Butta la fuori Ecco E perdiamo pure questa Mamma mia Ragazzi È impossibile Vincere In questo gioco Nella difficoltà Massima È Impossibile Siamo Ultimissimi Dobbiamo Cercare di arrivare A meno al sesto posto Per arrivare Nella fase E eliminazione Diretta E perderemo Direttamente Se arriviamo Comunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un like Condividete Commentate Passate alla pagina Facebook E Instagram Che è in descrizione Ciao a tutti Da PierreDarkKnight91 Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti